Un Natale molto difficile di incertezza, di dubbi, di prospettive, amare, però poi il Natale nelle famiglie speriamo che sia un momento di serenità, di ritrovarsi. L'Italia è grande, ha una storia, ha una tradizione, ha le spalle molto ancora più antica della lunga storia dell'Italia, quindi poi io credo che l'Italia ce la farà alla fine per la forza di quello che ha alle sue spalle. Che auguri vorrebbe fare agli italiani? Di essere un po' sereni, di riscoprire che la competenza è importante, che l'improvvisazione dell'uno vale uno è una cosa sbagliata, non si può mandare al governo gente scelta a caso, l'esperienza e la preparazione sono fondamentali. Riscoprire questo valore, in questa puria iconoclasta, in questo cattiverio, così l'ha definito anche il Censi, più fiducia in chi ha competenza e meno rancore.